Paolo Risso, presidente del Golf Club Rapallo e ne ho eletto consigliere federale. Anche a lui faccio la stessa domanda che ho fatto agli altri. Quale sarebbe la prima mozione che lui vorrebbe vedere approvata in consiglio? Una mozione che faccia sviluppare turisticamente questo sport in maniera esponenziale, che il governo si rendesse conto di quanto ha bisogno l'Italia di un turismo golfistico e forse anche qualcosa per fare veramente decollare questo sport straordinario in previsione anche delle Olimpiadi nel 2016 a Rio de Janeiro. Ma il percorso verso le Olimpiadi tu pensi che voi siate una pedina importante, cioè un parte del movimento e che sia il Consiglio federale che deve anche lavorare molto in vista delle Olimpiadi? Credo assolutamente, credo che avremo davanti quattro anni estremamente impegnativi. sono stati chi ci ha preceduto, sicuramente hanno fatto un percorso straordinario per il golf italiano. Abbiamo stabilmente giocatori versi delle classifiche mondiali, giocatori di Ryder Cup, però credo che dobbiamo fare ancora molto e continuare questo percorso che è stato intrapreso alcuni diversi anni fa. Come consigliere federale, per parlare, in golfese siete molto i rookie. Cosa pensi di questo? Siamo, beh, definire i rookie dei cinquantenni, direi che, però sicuramente credo che sia stata scelta una buona squadra, grazie ai presidenti dei circoli che ci hanno votato, perché credo che il gruppo che si è formato con questo Consiglio abbia una coesione che penso possa portarci lontano. Grazie, complimenti. Grazie a voi.